se non mi piace quello dico me lo dico le varie dal canale in un momento dove la democrazia è come la funzionalità delle mie due moto infatti vedete vi lascio fare come vi pare a belli da casa a belli mia che ti apposto via di voi la settimana in cammino il giorno del mio compleanno il 17 aprile mi è scoppiato il cuscinetto della ruota davanti mentre ero in autostrada sono ancora vivo e poco però quindi sono un po di giorni che ho questa allegria nel cuore e nonostante questa allegria nel cuore nonostante la nostra lazio stia facendo benissimo c'ho ancora più ansia per domani cambiavo tutto ragazzi è ricambiato tutto 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 mi diceva esagerato è ricambiato tutto allora partendo dal presupposto che domani è più difficile che con la juve c'è esagerato è più difficile che con la juve perché uno ballenatore due la squadra tre per la testa perché i punti dati inuritati rileveranno uno zoo quello è stato uno zoo nemmeno a 105 ma c'è lo zoo è stato proprio darglieli all'inizio la penetrazione che poi dopo gli hanno data di più fate le cose deciso basta no però tutta questa terra dei cagli italia si italia gnam e non sto dicendo che la juve è colpevole o è innocente quindi non mi rompe che cazzo era una considerazione sull'iter e su come si sta svolgendo questa farsa questa fantomima anche perché vabbè domani quindi situazione è cambiata è tutto cambiato è tutto più duro è tutto più difficile perché adesso ce l'hai lì prima ti sentivi bello fresco così sopra sotto insomma la situazione del merda proprio e domani occhio 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 anche perché poi con i signori con i granata ultimamente stiamo a faggode siamo fatti salvare pure l'anno che ci hanno detto merda cioè no loro il loro presidente tramite le pagine del suo giornale ce l'ha detto di più e di meno noi c'erano possibilità di renderli la vita ancora un po più complicata invece si sono venuti a roma ci hanno battuto se non sbaglio quella partita che hanno dovuto recuperare comunque domani partita complicatissima complicatissima ragazzi venite ma di culo che cazzo prepari domani è una partita complicatissima pericolosissima è unissima che prepara a voi mancherà ciro voglio stendere un velo pietoso sulla questione ciro immobile poi dopo diciamo diciamo che come dire la morale pochi me la possono fare a me in particolare poi comunque mancherà ciro partirà il nostro petrito speriamo bene ragazzi vi lo ripeto domani è fondamentale a me me lo darò il culo comunque ricordate che noi voliamo e l'altri strisciano dai e forza Lazio